Non solo gas, energie elettriche e materie prime, dovremo fare i conti anche con la tassa sui rifiuti che aumenterà del 2,6% in tutti i comuni della provincia di Pesero Urbino. Venerdì scorso, infatti, nell'ultima seduta dell'ATA, l'Assemblea Territoriale d'Ambito, è stato approvato all'unanimità il piano economico e finanziario della Tari, cioè lo strumento con il quale vengono definite le politiche tariffarie per gli enti locali. In più, per i comuni che hanno chiesto un potenziamento dei servizi, l'aumento sarà maggiore, del 5,6%. Questo avverrà a Fano, San Costanzo, Colli al Metauro, Monteporzo e Mondavio. I maggiori costi che Aset sopporta per questi servizi ammontano circa 400 mila euro l'anno, 420 mila. E con questa manovra qui noi ne recuperiamo solo 300 mila. Gli aumenti ci sono dappertutto perché anche Aset, quando va a fare il pieno per i propri mezzi, va al distributore e paga la benzina, il gasolio, il metano, esattamente con gli stessi prezzi con i quali li paga il cittadino. Ci sono maggiori importi, quasi, non dico il doppio, ma quasi per quanto riguarda le energie elettriche. Noi abbiamo degli impianti estremamente energivori, anche se ultimamente abbiamo cercato di appioppare e quindi collegare i nuovi impianti con degli impianti di produzione di fotovoltaico per cercare di attutire un attimino le spese dal punto di vista delle spese delle energie. Poi ci sono questi nuovi servizi. Alla fine, dai conti fatti da noi, ogni famiglia dovrà spendere quei 15 euro in più all'anno da questo punto di vista. Con 1,60 euro al giorno, ha precisato Reginelli, ASET garantisce l'acqua, i servizi di fognatura, la pulizia delle strade e l'arcolta dei rifiuti. Una piccola riflessione, secondo me, va fatta, perché poi parallelamente sì, però bisogna anche capire i servizi che ci sono dietro, le persone, le mansioni e i costi che anche noi dobbiamo sopportare. Nel caso del comune di Fano verranno eseguiti nuovi servizi, mentre altri saranno potenziati, come lavaggio delle strade nella zona industriale di Bellocchi per contenere le polveri sottili, nelle imprese la raccolta porta a porta di imballaggi di plastica e il potenziamento della raccolta manuale e dello spazzamento nei quartieri della città. Abbiamo anche il raddoppio della raccolta delle utenze in tutta la fascia del lungomare. Poi abbiamo anche una serie di nuove misure che presenteremo la settimana prossima, proprio per andare incontro anche ai bagnini, agli operatori turistici, albergatori e quant'altro. Per i cassonetti intelligenti ci sono novità? Sì, ci sono novità perché chi ha chiesto per primo l'applicazione dei cassonetti intelligenti è stato il comune di San Costanzo. Quindi abbiamo fatto il bando, c'è stata un'assegnazione del bando, quindi per ottobre ci dovrebbero fornire i cassonetti, quindi li provvederemo in pratica ad iniziare quest'anno questo genere di posizionamento raccolto. È uno sforzo significativo perché riguarda, sono cassonetti, essendo intelligenti vuol dire che praticamente sono collegati continuativamente con la centrale, ci dicono quando sono pieni, ci dicono cosa viene scaricato e tutto il resto. Questa cosa qui è piaciuta molto anche ad altri comuni, quindi si sono anche presentati altri comuni con queste richieste. Per noi è estremamente interessante, primo perché crediamo nella responsabilizzazione dei cittadini e in più perché vorremmo poi esportare questo modello anche su Fano, però chiaramente farlo su un comune di 5.000 abitanti o su un comune di 60.000 abitanti fa la differenza. Quindi per adesso ci limitiamo a chi sarà chiesto e da lì vedremo le varie criticità, modalità e quant'altro per poter poi perfezionarsi e entrare nel mercato di Fano. Grazie a tutti.